Buongiorno, oggi ci troviamo nel centro della città di Taranto e faremo un'intervista ai più grandi tiktoker di Taranto. Eccolo qua. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come ti senti con il successo che stai riscontrando su questa piattaforma? Sto pagando tantissimi soldi, infatti vedi stamattina non sto lavorando, però sono arrivato alla chiesa per chiedere una grazia se mi fa trovare qualche soldo, che sto puzzando dalla panna. Proprio per il successo. Adesso andiamo a intervistare anche un altro personaggio molto famoso della nostra splendida città. Grande Peppe. Ciao, buongiorno. Io ho appena incontrato Alfredo di Nati Felici. Vabbè, a casa voi te ne vieni a casa un bacio. No, a parte che l'ha attacca, a casa stai a casa. Ah già, va bene. Stavo dicendo ad Alfredo cosa mi pensa di questo successo che stai riscontrando su questa piattaforma. Alfredo adesso non sta pensando a nient'altro, solo al Viagra, ha fatto i capelli col Viagra stamattina. Questi letteni, mi dai un po' di Viagra e qua quasi come cresce. Sono bello incontrare questi grandi amici, queste persone straordinarie che io oramai conosco da tanto tempo, li voglio bene e volevo salutare a... come vi chiamate, scusate? Allora, io ho Leonardo Appetitoso. Leonardo Appetitoso. Fai le bombette. Fai le bombette. Che bombette. Grazie. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Un bacione. Ciao bellissimi, ciao.